Ancora niente da fare per il Zondrio. La formazione di Mr. Bertani si è dovuta accontentare per la quarta volta dell'ennesimo pareggio. Sul campo di casa della Castellina, i bianco-azzurri sono usciti dallo scontro con l'Albino Gandino con risultato di 2-2. Un pareggio che di certo non ha accontentato i tifosi valtelinesi, che dalle tribune hanno contestato Mr. Bertani, reo di aver definito la squadra il miglior Zondrio degli ultimi anni, prima dell'inizio della stagione. Nonostante tutto, l'avvio era stato incoraggiante per i bianco-azzurri, con una serie di azioni che avevano visto la squadra valtelinesi all'attacco. La prima rete è arrivata al 31esimo minuto a favore dei padroni di casa, grazie all'autolete di Carrara, che ha portato così i sondresi sull'1-0. Sono bastati pochi minuti alla squadra di casa per rafforzare il vantaggio. Al 43esimo è infatti arrivato il secondo gol grazie ad un rigore trasformato da Valturina. Insomma, i conti sembravano già essere chiusi. Ma nel secondo tempo è stata invece tutt'altra musica per il Zondrio. Un filotto di errori ad inizio ripresa, compiuti in zona corner, hanno permesso agli avversari di ottenere un rigore. Borlini non si è fatto di certo sfuggire l'occasione, segnando così la rete del 2-1 e riaprendo nuovamente la sfida. Il Zondrio ha faticato a reagire e al 32esimo minuto gli europei hanno trovato persino il pareggio sempre grazie a Borlini, che in rovesciata ha così portato il punteggio in parità. Ospiti che sul finale hanno persino sfiorato la vittoria. Il Zondrio si ritrova così dopo sei giornate ad occupare l'undicesima piazza in classifica, ad una sola posizione sopra la zona play-out.